In salto di potenza, la ricezione di Gerbeni con un po' in difficoltà, Cristensen in posto 4 per l'attacco di Lavia, contenuto a Nura da Giannelli, la buona copertura di Modena che consente l'attacco di Vettori, difeso da Animira Belazizzi, poi l'attacco in pallonetto di Lucarelli, contenuto a Nure, perche bene da Micheletto, altra occasione per Lucarelli che da... In salto, entra nel campo da posto 6, siamo sul vinteggio di 18 a 13 per Trento, questo è un po' in salto, la ricezione di Gerbeni con un po' in salto, va a cercare la ricezione di Lucarelli, preciso lo stesso Lucarelli che poi infila a terra, e questo pallonetto, Giadweiss per lui in questo set, e che ha fatto anche in questo caso, per bene cosa che diceva bene, Cristensen in posto 4 per l'attacco di Petric, i suoi giocatori, la ricezione precisa di Lucarelli, Giorneli è preso dietro per l'attacco di Adela Giucco. Per l'attacco di Pretene, più piccato, i miei soldi,agnoli, Demokratia e l'attacco di San Franذا, removano Islafians, del Vettori, vend attempting a rivacare lo stesso Lucarelli con un po' in ruizzi di Santa Barbara e Sangrelli, Fantastico il Spirito, haberà Narcastle, Questa canzone che sta allenzando